Per capire le caratteristiche e il motivo per cui il teorema di Ruffini ci fornisce delle condizioni utili per la scomposizione in fattori di un polinomio, andiamo a considerare la divisione di un polinomio a coefficienti interi per x-a, dove a è un numero intero, x è una lettera scelta a caso. Quello che stiamo per dire vale anche per la lettera y, z, t o qualsiasi altra lettera vi piaccia, purché si trovi sia nel primo che nel secondo termine della divisione. Vi ricordo che dalla divisione di due polinomi, e tra poco faremo un esempio concreto, riusciamo a produrre un quoziente e un possibile resto. Infatti, considerando ad esempio il polinomio nella lettera x, x alla seconda più 3x-1, e associando ad a il valore 2, proviamo ad effettuare la divisione di p di x per x-a e quindi nel nostro caso particolare del finomio x alla seconda più 3x-1 diviso x-2. La svolgiamo in quest'area dello schermo e in questo caso otterremo come risultato, o meglio come quoziente, il binomio x più 5 e come resto 9. Non ho effettuato i calcoli step by step di questa divisione perché il tema della video-lezione non è questo, ma se avete difficoltà di comprensione potete eventualmente commentare questo video esprimendo le vostre perplessità. Andiamo avanti, eliminando alcuni passaggi già commentati di questo video. Osserviamo, guardate qui, che il polinomio p di x, che nel nostro caso è definito dal finomio x alla seconda più 3x-1, può essere espresso come il prodotto del quoziente per x-2 più il resto. Guardate, ho riportato una regola, tra l'altro, utile per le divisioni tra numeri naturali, secondo cui, seguite il cursore, il dividendo, quindi x alla seconda più 3x-1, nel nostro caso p di x, risulta definito dal prodotto del divisore x-2 per x più 5, quindi da x-2 per il quoziente q di x più il resto. E a partire da quest'ultima considerazione possiamo passare al teorema di Ruffini. Il teorema di Ruffini esprime una condizione utile, relativa ai possibili valori che, assunti da A, rendono p di x divisibile per x-A e quindi producendo resto 0. In particolare, un polinomio p di x è divisibile per x-A e quindi produce come resto 0, se solo se, sostituendo alla lettera del polinomio il valore di A, otteniamo complessivamente come risultato 0. Applicheremo tra l'attimo questo teorema a un esempio concreto, ma dobbiamo prima effettuare un'importante osservazione che ci permetta di capire per quale motivo risulta molto utile nella scomposizione in fattori. E la chiave è la prima espressione presentata dal teorema. Andiamo a fare un piccolo zoom e osserviamo che quando il polinomio p di x è divisibile per x-A è possibile esprimerlo come prodotto di due polinomi distinti e quindi è possibile scomporlo in fattori. Tuttavia per farlo è quindi necessario trovare un criterio, un metodo, per trovare i valori di A che sostituiti alla lettera del polinomio di partenza rendano complessivamente l'espressione pari a 0. Il metodo in effetti c'è ed è l'ultima premessa che anteponiamo alla risoluzione di un esercizio in cui applicheremo il teorema di Ruffini per scomporre un polinomio in fattori. Per trovare i possibili zeri di un polinomio, ossia i valori che sostituiti apposto da lettera rendono l'espressione complessiva pari a 0, distinguiamo due casi. Il caso in cui il polinomio abbia il coefficiente della lettera di grado massimo pari a 1, come nel primo esempio proposto, è il caso in cui il coefficiente della lettera di grado massimo sia invece diverso da 1, in questo caso pari a 6. È possibile dimostrare per proprietà relativa ai polinomi che nel primo caso i possibili zeri del polinomio sono i divisori interi del termine noto, quindi in questo caso ad esempio 1, 3 e 9, e considerando anche il caso in cui risultino negativi, quindi meno 1, meno 3, meno 9. Nel secondo caso invece i possibili zeri del polinomio sono definiti da tutti i divisori del rapporto tra il termine noto, quindi meno 2, e il coefficiente della lettera di grado massimo, quindi 6. Ora possiamo osservare che ho parlato di divisori, tra virgolette, di meno 2 sesti. Ho utilizzato le virgolette perché tecnicamente parlare di divisori nel campo delle frazioni può essere improprio, ma in realtà il senso è questo. Possiamo considerare come possibili zeri tutti i divisori del numeratore, quindi guardate 1, meno 1, 2, meno 2, e tutte le frazioni ottenute dal rapporto tra i divisori del numeratore e i divisori del denominatore, quindi un terzo, due terzi e un sesto, considerati sia come numeri positivi che negativi. Detto questo passiamo a un esempio con cui sfrutteremo il teorema di Ruffini quindi non solo per trovare lo zero di un polinomio, ma per effettuare quella divisione che ci consentirà di utilizzare tale teorema per la scomposizione in fattori del polinomio considerato. Quindi proviamo a scomporre il polinomio y alla tezza, meno 2y alla seconda, meno 4y più 8, quindi chiamiamolo p di y, andando prima a cercare uno zero del polinomio per poi effettuare quella divisione che ci consentirà di ottenere come resto zero e quindi di scomporre il polinomio in fattori, concludendo quindi positivamente, speriamo, l'esercizio. E quindi, visto che si tratta di un polinomio in cui il coefficiente della lettera di grado massimo è pari a 1, possiamo cercare un possibile zero tra i divisori interi, positivi e negativi del termine noto 8, e quindi, guardate tra questi valori e procediamo in questo modo. Partiamo ad esempio dal valore 1, quindi andiamo a calcolare p di 1 e nel caso in cui l'espressione complessiva risulterà pari a zero, allora potremmo considerare 1 come zero del polinomio, altrimenti dovremmo cercare tale risultato per gli altri valori proposti. Nel caso di p di 1, osserviamo con alcuni passaggi, che potete analizzare con calma premendo il tasto utile a mettere in pausa il video, che il risultato complessivo è pari a 3, quindi 1 non è uno zero del polinomio e quindi proviamo ad esempio con 2. In questo caso, osserviamo invece che l'espressione complessiva è pari a zero, quindi 2 è uno zero del polinomio, per cui, per il teorema di Ruffini, potremmo esprimere p di y come il prodotto tra y meno 2 e q di y, dove q di y è appunto il quoziente della divisione tra il polinomio di partenza e il binomio y meno 2. In questo caso, per effettuare tale divisione e ottenere il quoziente, non andremo a sviluppare la divisione con le tecniche tradizionali, ma attraverso il metodo di Ruffini. In particolare, è necessario disporre sulla prima riga, in questo modo, i coefficienti del polinomio di partenza, quindi guardate 1, che è il coefficiente di y alla terza, e poi rispettivamente meno 2, meno 4 e infine 8, l'ultimo termine va isolato oltre la seconda riga verticale, e disporre lo zero del polinomio, guardate, in questa area. A questo punto bisogna abbassare, tra virgolette, l'1 in questa posizione, calcare il prodotto tra 1 e 2, riportare il risultato in questa posizione, sommare i due termini in colonna e reiterare il procedimento, quindi 0 per 2, che produce come risultato 0, ottenendo come somma tra i termini in colonna meno 4, e quindi meno 4 per 2, che produce come prodotto meno 8, usate il gioco di parole, e sommando i termini in colonna otteniamo 0. Non starò qui ad approfondire il metodo di Ruffini, che analizzeremo in altre sedi, e per cui vi chiedo di commentare il video con eventuali dubbi che ci sono al riguardo. Mi preme però ricordare che i numeri ottenuti nell'ultima riga sono separati in due sotto insiemi, e l'ultimo numero ottenuto, lo zero, rappresenta il resto della divisione. In effetti, il polinomio P di y diviso per y meno 2 produce come resto 0, visto che è divisibile appunto per y meno 2. Vi ricordo inoltre che, dagli altri numeri ottenuti, è possibile definire il quoziente della divisione e della scomposizione in fattori come segue. Il primo coefficiente in particolare rappresenta il coefficiente della lettera di grado pari al grado massimo di partenza, che è quindi 3 diminuito di 1, e quindi il coefficiente di y alla seconda, e via discorrendo i coefficienti delle lettere di grado inferiore. Quindi lo zero sarebbe il coefficiente della lettera di primo grado, e quindi non la riportiamo, mentre meno 4 è il termine noto. Detto questo, osserviamo che il polinomio di partenza, grazie all'utilizzo del teorema di Ruffini, risulta scomposto nel prodotto di due polinomi. Osserviamo inoltre che il secondo fattore è ancora scomponibile attraverso il metodo della differenza di quadrati, che ci permette di raffinare la scomposizione cercata. Chiaro?